sono in live ciao ragazzi ciao a tutti raga live totalmente improvvisata sul momento vediamo un po' se riusciamo a arrivare a un po' di gente live di Q&A come sempre le mie live improvvisate sono sempre di Q&A ciao Giorgio come stai? quindi facciamo una live giusto di mezz'oretta per se c'è qualsiasi tipo di domanda qualsiasi tipo di qualsiasi cosa volete sapere sono qua a vostra completa disposizione youtube funziona facebook no instagram si ok come va raga? oggi grande giorno oggi abbiamo fatturato veramente tanto sono veramente contento insieme a tutto il team le store stanno andando alla grande questa settimana è partita veramente quel periodo giusto quindi sono veramente veramente molto molto contento bravo Filippo arrivano subitissimo le prime domande bravi ragazzi fatemi subito le domande almeno non perdiamo troppo tempo in chiacchiere inutili allora aspetta che devo spostare questo se no non ci vedo niente eccolo qua ciao Claudio grande ci sta a partire con 100 euro al giorno con le ads? assolutamente sì Filippo ci sta e come? 100 euro al giorno va benissimo ora dipende un po' dalla strategia che intendi utilizzare con cui intendi cominciare con le facebook ads diciamo che a mio parere dividiamo le strategie in due semplicissime fasi quindi strategia low budget e strategia high budget per la low budget feci un video su facebook un po' di tempo fa dove spiegavo un po' come mi muovevo anche se adesso dovrebbe essere un po' aggiornato per quanto riguarda la strategia high budget invece si parla almeno dai 150-200 euro in su uscirà un video questa settimana penso giovedì o venerdì ciao Riccardo giovedì o venerdì dove farò un video veramente bomba ragazzi di un valore assoluto roba che proprio nei corsi fanno pagare oro e voglio spiegare proprio su youtube quindi per tutti la mia personale strategia high budget dalla A alla Z quindi come affronto la fase di testing con un alto budget iniziale fino proprio alla fase di scaling eccetera eccetera quindi veramente molto molto interessante ho deciso di metterla su youtube così che tutti possono usufruirne e possono guardarla quindi mi raccomando non vi perdete poi quel video giovedì o venerdì poi intanto vi farò sapere quando uscirà ciao Claudio mi dico ciao Luigi Luigi ho visto che mi hai iscritto in direct te lo dico subito l'ho notato non ho ancora avuto modo di rispondere magari dopo questa live ti rispondo subito ok mi iscrivete in tantissimi raga quindi non riesco a rispondere nell'immediato perché magari sto facendo altre cose magari voi vedete che il messaggio l'ho visualizzato perché a volte sono su Instagram ma comunque non ho il tempo materiale per rispondere ma poi mi prendo uno spazietto per rispondere a tutti come sempre lo sapete ciao Masox ciao Carlo ciao raga un po' se c'è qualche domanda facebook manager bannato ahia ho fatto richieste di verifica da due settimane ma nessuna risposta consiglio di niente non c'è poco da consigliare devi continuare a prova proprio dal profilo personale di facebook in alto a destra vai su assistenza messaggio assistenza prova a mandare un messaggio di link spiegando quello che è successo e in quel modo dovrebbero comunque accelerare i tempi di risposta ma non è detto ok purtroppo ragazzi non ci possiamo fare niente l'unica cosa da fare è o attendere che venga rifatto il controllo e ti sblocchi non tutto oppure acquisti un nuovo business manager ok boss ciao 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 Marco secondo te vanno ancora template sì assolutamente perché no perché no comunque Federico te sei il mio studente quindi in questi giorni come ho già detto a tutti i miei studenti ciao Fabrizio come ho già detto a tutti i miei studenti ho rilanciato lo store che avevo lanciato per proprio per lanciarlo insieme a voi ok oggi sono ripartite le campagne a di la verità erano vabbè poi per chi è i miei studenti farò una live all'interno proprio del gruppo privato e vi faccio vedere il tutto ok grazie mille prego ti sei ricordato sì assolutamente sì grazie prego ciao Paolo ciao Danny ciao raga ciao a tutti non capisco perché se Facebook non va vabbè fa niente dopo tre giorni come consigli di continuare la campagna interessi che vanno top dipende da come è cominciata la tua fase di testing se in ABO se in CBO eccetera eccetera solitamente dopo 72 ore io analizzo un attimo i dati che ho a disposizione quindi analizzo tutti quelli che sono il CPC CPM CTR initiate checkout acquisto eccetera eccetera a seconda dei dati che ho eh levo whatsapp altrimenti mi arrivano tutte le notifiche a seconda dei dati che ho poi decido come muovermi quali aziende uccidere quali nuovi interessi testare quali nuovi creative uccidere e quali nuovi creative a testare eccetera eccetera affinché non ho almeno sei interessi veramente molto molto performanti dopodiché vado a fare inizio a quella che è la fase di scaling vero e proprio però devo avere veramente almeno sei interessi proprio molto molto forti con delle creative con CTR molto molto alto dopodiché poi comincerà anche la fase di lookalike retargeting eccetera eccetera e lì arriva il divertimento ok secondo me la cosa fondamentale la cosa importante la cosa cruciale è arrivare alle lookalike le lookalike sono il pubblico nella maggior parte dei casi che vi fa divertire maggiormente ok quello che vi veramente vi porta a maggiori risultati sono dei pubblici potentissimi ovviamente prima di arrivare alle lookalike bisogna fare un po' di gavetta no? si dice perché le lookalike non le puoi fare con 70 acquisti non te li fa proprio fare neanche con 100 cioè potremmo farle dai 100 in su ma non è consigliabile ok quindi bisogna scalare un attimo prima poi una volta che le lookalike vai spingi come le bombe quanto costa il corso? il corso al momento è a 347 euro compreso di tutte le 130 e più video lezioni che ci sono al momento su veramente di tutto dalla A alla Z accesso al gruppo privato supporto con le mail dedicata eccetera eccetera quindi ancora per poco ragazzi è dropshipping digitale ancora non l'ho detto però chiuderà presto ok? chiuderà presto perché stiamo cominciando a essere in troppi grazie prego Giorgio a quando un aggiornamento sul corso delle Google Ads a presto ma non è un aggiornamento ragazzi ci saranno delle bombe presto delle vere bombe ebook di cucina di Natale quando madonna ragazzi sto cavalletto maremma maiala impestata non ci sta oh ebook di cucina di Natale può andare è veramente un prodottino che vendi solo a Natale dopo ti dimentichi di non venderemi più e non so quanto potrebbe vendere non lo so certo magari può andare però ti dico la mia personalmente non farei uno store su un ebook di questo tipo ecco non lo testerei però mai dire mai buonasera Marco buonasera Antonio Reader guest in Torino ride non so perché ciao cosa consigli per chi come me non ha la mente aperta nel trovare prodotti digitali ti consiglio di acquistare il corso perché ci sono 52 esempi di prodotti digitali diversi proprio per chi non ha la più pelle d'idea di cosa andare a vendere quindi avresti già tanta tanti tanti esempi su cui poterti basare e soprattutto se proprio non hai il budget per acquistare il corso eccetera eccetera cominci intanto a ottimizzare il tuo feed datti un'occhiata a quelli che sono i maggiori marketplace a livello mondiale sui prodotti digitali ok quindi creative market in Bato Etsy tutti questi marketplace qua vai a controllare tramite delle Chrome extension il volume di ricerca il volume di vendite la competizione che hai sui prodotti e già ti fai un'idea su quali sono i prodotti vincenti oppure no ho visto tutti i tuoi video quale prodotto consigli per partire adesso tutti i prodotti vanno bene ragazzi l'unica cosa deve essere unico ok qualcosa di mai visto prima sarebbe l'ideale o altrimenti qualsiasi cosa ragazzi veramente io lo dico sempre non è tanto il cosa vendiamo ma è il come lo vendiamo ok quella è la cosa fondamentale se non riesco ad uscire dalla fase di apprendimento in una settimana cosa consiglio di fare consiglio di anche lì dipende onestamente perché tante volte io rimango in apprendimento perché comunque mi sta portando risultati l'apprendimento stesso se l'apprendimento è limitato allora no in quel caso spengo e avvio una nuova campagna magari cambiandola un po' se è solo apprendimento la lascio un apprendimento e poi dipende bisognerebbe valutare un attimo la situazione bisognerebbe vedere cosa gli manca per uscire dall'apprendimento magari ha bisogno di più budget magari ha bisogno di un pubblico più vasto quindi bisogna vedere ogni apprendimento non è sempre uguale ok ci sono apprendimenti gli apprendimenti diciamo confermo corso di Marco è stupendo e completissimo grazie mille 350 prezzo onestissimo assolutamente sì ragazzi grande Marco corso molto completo grazie mille raga questi messaggi mi veramente mi fanno piacere ridevo le tue battute col cavalletto sì questo cavalletto di merda ragazzi consiglio ad aggiungere le icone di Instagram e lights al mio store di presets o lasciare solo i presets no assolutamente no questa è una cosa che mi chiedete veramente in tanti ma a mio parere allargare il proprio store con nuovi prodotti fa sempre bene poi ragazzi ricordatevi che non c'è mai una risposta giusta o una risposta sbagliata c'è il test questo che vi piace o no purtroppo è la triste realtà ok la parola d'ordine in questo mestiere in questo lavoro è il testing quindi bisogna testare le cose ok prova falle mettile sul tuo store pubblicizzale un minimo e vedi come come risponde il tuo pubblico a quella lo puoi fare anche come upselling magari non importa sia proprio un prodotto a parte ci sono tante strategie di marketing differenti fra loro ciao c'è un eccezionale cosa ne pensi del trading non mi piace il trading non mi piace ciao Alex Daya ora vi saluto se vendo prodotti di categorie diverse sullo stesso store come mi comporto a livello pubblicitario andato ad architettizzare pubblici interessi abbastanza diversi tra loro non vorrei sporcare il pixel io non venderei prodotti totalmente diversi fra di loro nello stesso store ok farei piuttosto più store mi spiego meglio se non puoi vendere social media calendar e tracce di musica royalty free ok non ha senso non c'è un messo fra i tuoi prodotti e quindi non viene visto come esperto in un determinato prodotto ma solo uno che sta cercando di vendere qualsiasi cosa pur di fare due soldi e non va bene quindi a mio parere la cosa che dovresti fare è proprio o fai una cosa che comunque ha un messo con il prodotto già presente attualmente nel tuo store oppure fai un nuovo store che budget consigli per iniziare con il dropshipping digitale in questo momento beh dipende ragazzi dipende da tante cose puoi partire potenzialmente anche con zero però come dico sempre il processo per arrivare a fatturare veramente tanto sarà più lungo più budget hai da investire più budget hai a disposizione più velocizzi quello che è il l'ecosistema ok il processo di monetizzazione arriva a fatturare più alti fin da subito io per esempio oggi ho lanciato una campagna 200 euro di budget giornaliero ok però su youtube non posso fartela vedere comunque oggi il primo store lanciato 200 euro di budget giornaliero ho acquistato tre prodotti sono tre diversi pack 30 euro l'uno in PLR quindi col diritto di rivendita quindi 90 euro di prodotti 200 euro in facebook ads quindi 2,90 a spesa totale a ora che sono le 9.45 sono a 523 euro di fatturato faccio vedere su instagram 523 euro di fatturato oggi che è il primo giorno con pixel totalmente vergine non ho neanche la pagina di instagram l'ho voluto lanciare comunque proprio test nuovissimo quindi fai 523 meno 2,90 e ti calcoli il profitto di oggi considera che prodotto quindi con 290 euro in questo caso ho avviato il mio store di dropshipping digitale totalmente nuovo e già dal primo giorno nella prima fase di test sono già un profittino di 270 euro che comunque non è male è molto buono sono abbastanza soddisfatto della cosa e ovviamente ora aspetto 72 ore senza toccare assolutamente niente e poi comincerà la fase di scaling fin da subito è ovvio che c'è dei rischi a fare queste cose nel senso che devi calcolare che io ho messo 200 euro di budget giornaliero su facebook e nel senso è andata bene ero abbastanza sicuro che andasse bene però una persona un po' meno esperta un po' che non sa bene come mettere le mani come fare le campagne come fare le store eccetera eccetera ci sta che metta 200 euro di campagne pubblicitarie su facebook e in due giorni ne spende 400 senza alcuna vendita è questo che il motivo per cui se hai un buon budget sì sicuramente arrivi a risultati in tempi molto ristretti però è anche vero che bisogna saperne fare certe cose perché altrimenti capito io ed un mio amico abbiamo circa 160 euro secondo te possiamo fare qualcosa su shopify pensavamo influencer marketing assolutamente se 160 euro già possono bastare per partire potete fare assolutamente qualcosa ovviamente a livello pubblicitario sicuramente non potete fare il dropshipping fisico perché non avete il cash flow necessario ok con digitale potete farlo però a livello pubblicitario siete un po' ristretti anche lì ok quindi sì partirei con influencer marketing e soprattutto in affiliazione dici che non va in generale un ebook di cucina o per chi è incentrato sul Natale grazie mille non lo so ti dico la verità è un tipo di prodotto che non ho mai provato non ho mai testato personalmente quindi non saprei dirti prova cioè puoi provare cioè alla fine ragazzi io non sono mago merlino nel senso qualsiasi prodotto ti dico per come sono fatto io per quelli che sono i miei gusti per quello che è il mio la mia modestissima opinione non lancerai mai quel tipo di prodotto adesso ok anche perché è un prodotto che finito il Natale basta cioè non lo vendi più poi sì sarà anche la cucina però non lo so ce ne sono talmente tanti talmente tanti gratuiti cioè io quando cerco una ricetta vado su giallo zafferano e me lo guardo capito non comprerai un ebook però magari per come sono fatto io capito non lo so non ho mai studiato quel mercato ti dico la verità onesto ciao Gabri grande ciao Simo mitico Simo mitico consigli Fizzero moderna che intendi con Fizzero moderna consigli dropshipping o private label se ti riferisci a prodotti tradizionali quindi a prodotti fisici private label è meglio ovviamente hai bisogno di un budget più alto ok quindi il private label sicuramente è molto molto meglio ti permette di fare il contrassegno che in Italia è a mio parere fondamentale se vuoi fare veramente un business solido quindi sì private label tanta roba l'unica cosa è che ci sono tante cose a cui devi stare attento l'import export devi approcciare alla dogana mi raccomando tutte le tasse doganali quando ti fai il tuo business plan devi calcolare tutti quelli che sono i reali costi ok tante volte si pensa che andiamo su Alibaba si vede il prodottino c'è scritto un euro al pezzo e prendiamo mille pezzi a mille euro purtroppo non è assolutamente così ci sono anche tutte le tasse tra l'altro se vuoi importare se vuoi fare un'importazione vera e propria sei obbligato ad avere la partita IVA quello lo dico per correttezza insomma il processo è un po' più lungo dovrai fare stock quindi non so se hai posto a casa per fare stock oppure no oppure se non hai posto per fare stock e dopo spedire ogni singolo prodotto devi mi vengono le parole via ma rimarazzi devi utilizzare una ecco mi sono anche tagliato un dito siamo a posto devi utilizzare una logistica oh devi utilizzare una logistica esterna quindi capisci che insomma la cosa diventa un po' più mentre lo drop ship in digitale tutti questi problemi non li hai ok quindi pensaci sei dimagrito o mangia eh lo so Simo sono dimagrito sì in Australia sai andavo in palestra tutti i giorni ora qui sulle palestre sono chiuse prova a fare qualcosa la mattina ma in casa fai poco cioè non è che ci acquisi le cose come Susano Marco l'idea di chiamare il corso del ship in digitale è stata azzeccatissima secondo me sì lo so lo so per tanti motivi è stata una strategia di marketing veramente molto molto forte drop ship in digitale eh prima di tutto perché ha fatto tanto rumore eh questo era quello che volevo essenzialmente perché io eh sì avevo iniziato a fare qualche canale youtube qualcosa però eh ancora non ero molto conosciuto ok youtube ragazzi è è veramente difficile da far crescere come canale devi andare tutto in organico e insomma devi tanti tanti contenuti di qualità e ci ho messo un po' poi quando ho detto va bene troviamo il nome per questo percorso formativo del drop ship in digitale è stato studiato è stato studiato bene ma è quello che deve fare un bravo marketer ok tutti quelli che vengono da me e che mi rimproverano per questo nome sono tanti di loro si ehm proclamano come marketer come grandi marketer copywriter eccetera eccetera a mio parere un buon marketer un grande copywriter non può venirmi a dire non puoi chiamare cioè vuol dire che non sai fare il tuo a mio parere anche questo io parlo sempre non voglio parlare male degli altri non farò nomi niente di tutto ciò però ecco bisogna capire le certe cose secondo me se sei del mestiere consiglio influencer marketing con pochi follower magari arriva qualche vendita il big sales alimenta se ha pochi follower ti consiglio di fare affiliazione ma non sono cioè cerca tanti 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 micro influencer ok e tanti micro influencer che ne so 30 micro influencer da 10.000 follower l'unico sono comunque comincia ad essere un bel pubblico su cui e loro sono quelli che solitamente accettano l'affiliazione quindi vendono il tuo prodotto in cambio di una commissione e per te sarà solo ed esclusivamente pubblicità gratuita quella quindi assolutamente molto molto interessante non tagliato ma andiamo anche un attimo su youtube qual è il paese europeo che in genere ha una risposta migliore eh Germania United Kingdom Norvegia e comunque tutti quelli con il procapita più alto ok io ho la mia lista di paesi europei su cui parto eh se vuoi te la mando Fabrizio se sei mio studente scrivimi un'email e ti mando la lista dei paesi con cui comincio io in Europa ciao Marco e complimenti cosa ne pensi di drop di PLR su ebay e amazon ci può stare però ragazzi siete in un oceano rosso sangue ok tenete sempre a mente questa cosa e nella maggior parte dei casi tra l'altro i prodotti PLR quelli che ci sono attualmente sul mercato sono già su amazon ebay o comunque magari cambia la copertina però ci sono già e su amazon ebay sono di fondamentalissima importanza le recensioni per crescere e il prodotto di qualità ok chi ti bisogna stare molto molto attenti molto molto attenti ciao Edin grande Edin ci vediamo domani in consulenza ti aspetto ciao Dennis grande come ti stanno andando le google ads bene abbastanza bene ovviamente dipende per quali store ti dico per uno store le ho eliminate perché non andavano bene per un altro store ho eliminato le facebook ads e stanno andando solo di google ads perché stanno veramente facendo le bombe comunque in linea di massima stanno andando bene dai posso dire non mi posso lamentare una cosa ragazzi non so se avete visto il mio ultimo video ora voglio cominciare a parlarne un po' di più di queste google ads perché a me piace iniziare a parlare di cose che poche persone parlano e veramente ho notato che anche su youtube o comunque corsi di formazione sulle google ads inerenti a quello che è l'e-commerce a dropshipping in italia al momento non ci sono non esistono e quindi sicuramente anche su youtube cercherò di portare quanti più contenuti possibili perché possono essere veramente di grande aiuto per tutti voi e possono essere video comunque di valore onestamente io se fossi partito due anni fa e magari cercavo qualcosa su youtube in italia per quanto riguarda google ads non trovavo niente c'è qualcosa in america sì sicuramente gli americani si sa sono sempre un passavanti però per quanto riguarda in italia non c'è veramente niente quindi arriveranno nuovi video ve lo prometto ho visto che avete avuto un bel riscontro sull'ultimo dove appunto ho cominciato a parlare di google ads e mi ha fatto tanto piacere ne farò altri voglio far vedere per esempio l'utilizzo di quello che è merchant center google analytics e google ads che sono i tre strumenti di lavoro che vanno tutti collegati fra di loro al nostro store shopify come appunto collegare e fare il setup delle google ads con shopify come impostare come aggiungere prodotti su merchant center per fare campagne shopping come fare campagne search come fare campagne di keywords long tail keywords insomma c'è un bel mondo dietro un mondo bellissimo interessante quindi voglio poi farvi vedere tutto conosci il manuale della tartaruga se sì cosa ne pensi? no fai recensioni store? sì faccio recensioni store mandami lo store se vuoi te lo faccio quando ho tempo Marco Cappelli ora partecipa grande viva l'omonimo sempre e comunque ci sta andare due settimane a Bali per isolarsi allora ti faccio vedere un'altra cosa questa è la pagina attualmente presente sul mio compito scusate ragazzi di youtube comunque è una villa che sto prenotando per Bali o almeno vorrei prenotare devo un attimo informarmi per quanto riguarda il lockdown per tutto febbraio entire villa con la piscina privata ragazzi spettacoli non vedo l'ora non ne posso più di stare rinchiuso in casa qui in Italia quindi la tua domanda ci sta andare due settimane a Bali per isolarsi non ti rispondo neanche perché vai vai a Bali per isolarti io adoro Bali amo Bali dal prima volta che ci ho messo piede sopra ho sempre detto qui prima o poi ci verrò a vivere perché veramente per me è favolosa e anche per quanto riguarda l'isolamento eccetera eccetera è pazzesco ragazzi sì quindi sì assolutamente sì nel tuo corso tratti solo dropshipping no non faccio private label non lo tratto se vuoi ne parliamo consulenza quello sì assolutamente perché l'ho fatto tanto però il corso è concentrato solo sui prodotti digitali quindi sulla vendita di prodotti digitali con Shopify ok se vuoi saperne un po' di più sul private label possiamo fare una consulenza quello assolutamente warehouse ciao Daria ciao Giorgio ciao Flavio grande ciao Riccardo come pagare gli influencer come ti chiedono loro bonifico paypal con tanti come vogliono fai un contratto pagare no io solitamente pago con paypal ciao Marco questo è il primo giorno spendo 100 e un cassato 100 cosa ne pensi i CTR sono ottimi penso che sia break even quindi lascia andare ancora altre 48 ore aspetta 72 ore prima di fare una valutazione non è il massimo ma non è neanche pessimo nel senso che Filippo 100 euro al giorno quando parti con uno store nuovo e ne hai comunque incassati 100 sei break even ok quindi non è da scartare non è da buttare via aspettiamo aspettiamo altre 48 ore dopo rianalizziamo i dati ok un giorno è sempre troppo poco secondo me per fare una valutazione fatta bene della cosa comunque già che i CTR sono ottimi vuol dire che comunque a livello di creative ci sei quindi benissimo chi è il vincitore della consulenza one to one io per caso non ho ancora deciso Fabrizio poi quando farò un nuovo video vado a vedere i commenti e decido ciao Marco è possibile vendere anche i book e audio books con il tuo corso assolutamente sì ciao Marco ciao Kevin grande migliore corriere per spedire pacchi piccoli a 100 grammi SDA non era male SDA penso che il migliore al momento sia SDA poi dipende ragazzi perché anche lì ogni azienda cioè i corrieri sono aziende ok non sono prezzi standard quindi se voi da azienda li presentate a una serie di corrieri cosa succede che voi gli dite guarda io ho 40 ordini giornalieri che prezzo mi fai e puoi contrattare puoi trattare quindi insomma dovete sta anche a voi sta all'imprenditore cercare qual è la miglior soluzione per per se stesso per la propria azienda anche su tutte queste cose ok un po' come quando si vanno le banche sono aziende anche loro anche con loro si tratta è tutto un lavoro così ciao Marco è ancora valido spendere 150 euro un influencer marketing come hai fatto te e li guadagnarci 850 sempre come hai fatto te ma questo dove te l'ho fatto o è un video youtube di becchissimo perché non me lo ricordo neanche ho lanciato talmente tante cose non mi ricordo quello che ho fatto io onestamente sono sincero magari l'ho fatto tanto tempo a fare su youtube fare qualche video però assolutamente sì l'influenza del marketing ragazzi funziona sempre dipende un po' dal tipo di prodotto dal tipo di store però in linea di massima gli influencer se sono gli influencer giusti se hanno tra i propri follower il target ideale di quello che è il prodotto che stai vendendo sono sempre un'ottima risorsa un'ottima strategia di marketing torniamo un attimo su Instagram ti sei dovuto isolare per ottenere i primi risultati allora sì però non ho fatto l'isolamento volontario nel senso che mi ci sono ritrovato era una situazione particolare in cui abitavo dall'altra parte del mondo ero in Australia non avevo amici o pochi mi ero affacciato a questo mondo quindi lavoravo tantissimo lavoravo 10-12 ore al giorno quando tornavo a casa stavo 6-7 ore su corsi eccetera eccetera a manichetta solo quello e quindi è stato un isolamento boh non so parlare oggi fateci caso mi ci sono ritrovato ero per forza isolato però è servito tantissimo tantissimo Giovanni Magrini ti seguo grande Giovi come stai? oggi c'era il buon vecchio Biagini casa nuovi progetti buonasera Marco grazie buonasera a te ciao ciao ragazzi www.my no non me lo scrivere in chat scrivimelo in direct che almeno poi vado a controllarlo perché altrimenti che poi i messaggi della chat non li ritrovo più ciao Nicola aspetto la tua recensione allora ti trasferiresti a Bali? sì io mi trasferirei a Bali non tutto l'anno però io veramente farei 6 mesi di inverno a Bali e 6 e l'estate in Italia ok questo è proprio la vita che vorrei io ok 6 mesi di inverno a Bali 6 mesi di estate in Italia sempre caldo sempre sole 6 mesi da una parte 6 mesi da un'altra per me pazzesco allora andiamo insieme a Bali Marco tanto sono di Lucca siamo più vicini va bene Lorenzo va bene aspetto quanto costa il tuo corso? 3 e 47 ragazzi l'ho già detto prima 130 e più lezioni dalla A alla Z accesso al gruppo Facebook supporto diretto con mail dedicata ovviamente tanta roba e chiude presto ok chiudere a presto ragazzi non l'avevo ancora detto ma penso che non arriviamo a fine mese anzi forse a metà mese chiude tutto perché stiamo cominciando ad essere veramente in troppi GLS è anche molto molto buona infatti esatto la vita è tutta una vendita no dai ora non così no quasi quanto fa al mese circa non ho mai abbastanza applicazione gratis per fare affiliate marketing domanda già fatta si è staccata la connessione Goaf Pro utilizza Goaf Pro è quella che utilizzo io quando faccio affiliate marketing con il mio store in Shopify la puoi scaricare direttamente dalla Shopify App Store molto utile molto intuitiva molto facile da usare e ti consiglio quella ciao Alessia ciao Luca ciao Marco ciao ragazzi un attimo su YouTube siti oltre Amazon e eBay per vendere ebook allora se intendi marketplace allora il mio consiglio è quello di utilizzare il tuo sito che io non lo chiamerei sito ma chiamerei store quindi il tuo personalissimo store per vendere ebook in modo tale che tutti possano fare una vera e propria landing page mirata con un copywriting persuasivo eccetera eccetera e vai a colpire maggiormente il tuo target ideale altrimenti potresti provare Etsy boh non me ne vengono a mente altri adesso sul momento sei un grande Marco no sei un grande te 8 CTR CPC07 vanno bene 8% di CTR di CTR 8% mi sembra un po' tanto Filippo cioè sei l'8% sono veramente contento per te voglio dire che hai fatto un lavoro incredibile e va benissimo perché l'8% di CTR comincia ad essere una percentuale fenomenale controlla bene che non sia sul tasto di click sul link o tutti i click che già il discorso cambia perché ricordatevi ragazzi che il CTR quando li vedete sul vostro business manager solitamente ne vedete due tasto di click sul link e tutti i click tutti i click è quando una persona clicca su mi piace quando clicca sulla foto quando clicca anche su altro magari avete il copy e si vede solo una parte del testo per vedere tutto clicca su altro per leggere tutto già quello è un click ok clicca su condividi clicca su commenta eccetera eccetera tasso di click sul link invece è quello che ci interessa a noi è la percentuale delle persone che cliccano effettivamente sul link e vanno a finire nel nostro store una domanda perché vari corsi finiscono sempre con il numero 7 è psicologia c'è questa legge nel campo del marketing che dice che il prezzo di vendita debba sempre finire col 7 o comunque ci debba essere il numero 7 all'interno di quel prezzo perché è più persuasivo è più non lo so invoglia maggiormente all'acquisto non ci ho mai creduto più di tanto ti dico la verità la mia è quasi più superstizione nel senso io metto il 7 perché da quando ho saputo questa cosa adesso devo mettere 7 però secondo me non so poi effettivamente se è vero oppure no comunque c'è psicologia consigli per una landing page ebook consigli per una landing page ebook in che senso spiegati un attimo cioè se consiglio di fare la landing page per vendere un ebook sì sì assolutamente in realtà è solo nei corsi sta roba sì non è cioè ovviamente non è che tutti i prodotti del mondo hanno il numero 7 no solo alcuni solitamente la ritroviamo nei corsi spesso e volentieri perché i corsi vengono venduti appunto da quelli che sono esperti in materia quindi esperti di marketing che magari sanno queste cose sanno però ma poi ragazzi cioè ripeto non sono cose importanti o rilevanti ok cioè io per esempio ero al corso a 3,47 ne vendo tot magari lo metto a 3,49 ne vendo di più cioè capito non te lo so dire questo bisognerebbe sempre provare e testare però superstizione cosa sapevo questa cosa qui che era una cosa psicologica allora ho voluto mettere il set comunque ciao Nitzel mi ricordo di te come stai? tutto bene? migliore app gra poi mi spiegherai che combinate certo bella risposta complimenti grazie Andrea migliore prodotto digitale quello che ancora non esiste oppure quello che ti fa guadagnare di più ci fanno vanno bene tutte e due un goof si un goof è un goof Luigi no è go af pro scusa io a volte è vero non scandisco bene aspetta te lo scrivo vai almeno go af con la doppia f pro così ok adesso la vedi scusa ti chiedo scusa ma mi fate morire non si è capito scatrici se può grandi bene bene grazie grande Nitzel non ti ho più visto tra i miei video youtube questa cosa mi è dispiaciuta un po' torna mi fa piacere intendo come strutturarla io attualmente ho uno story in drop normale che sta a 29k ma sta entrando nel drop digitale una landing page so farlo ovviamente ma ho notato che quelle degli ebook sono strutturate in modo diverso assolutamente no allora a mio parere il miglior venditore di ebook in italia è Luzzo ok sicuramente lo conoscete è il copywriter migliore al mondo Luzzo Marco Luzzo sardo ha fatto la sua fortuna vendendo ebook appunto sul copywriting o comunque su come fare copywriting andate a vedere come lavorano questi competitor ok non prendete spunto da store fallimentari che comunque vendono poco andate dai migliori e vai su Marco Luzzo sulla pagina sua vai su trasparenza della pagina accedi alla libreria inserzioni dopo che vedi la sponsorizzata clicchi e vedi la landing page su cui ti rimanda è la sua landing page per vendere l'ebook e ti assicuro che quelle sono landing page ideali e fantastiche per vendere un ebook ok assolutamente poi è vero anche che ci sono tante persone che non fanno una landing page ma fanno semplicemente una product page su Shopify utilizzando anche i debut e comunque possono avere ottimi risultati non lo metto in dubbio però io personalmente cerco sempre la perfezione cerco sempre di fare quel qualcosino in più bene raga dai siamo già a 37 minuti ok ho appena controllato CTR clic sul link 282 eh vedi già e già mi torna la cosa 347 sì comunque sono sempre molto molto buoni sono ottimi Filippo quindi come CTR a mio parere dall'1,5% in su già è un buon CTR comunque da non eliminare da non scartare assolutamente 347 è ottimo comunque è molto molto buono ma usa Luzio WooCommerce o sbaglio no non mi ricordo cosa usa probabilmente utilizza proprio ClickFunnel o forse WooCommerce hai ragione ma ti dico con Shopify siamo in grado assolutamente di fare la stessa identica cosa che puoi fare con ClickFunnel o WooCommerce basta solo saperlo fare ok quindi dovete dimenticarvi una volta per tutte dei temi sia a pagamento che free non si utilizza i temi per creare il store di Shopify ma utilizziamo applicazioni che ci permettono appunto di strutturare delle vere e proprie landing page di vendita ok questo bisogna fare quindi è la stessa identica cosa non è importantissimo quale piattaforma utilizzi puoi fare la stessa cosa lo puoi fare con tutte le piattaforme no vabbè non commento sempre però ti seguo abbastanza tranquillo oh bravo mi raccomando non smettere di seguirti per fare lp per fare landing page dicono la piattaforma ideale sia ClickFunnel che dici dipende ClickFunnel sicuramente è una piattaforma ottima per fare però è più una piattaforma che utilizziamo per fare funnel ok quindi veri e propri funnel di vendita quindi è ottima e sicuramente da considerare in un caso di un prodotto high ticket dove la persona il cliente medio non spenderà mai 350-500 euro per un prodotto che non ha mai visto prima per una persona che non ha mai visto prima quindi in quel caso avrà bisogno di avrà bisogno di scaldare il cliente quindi farlo scendere scaldarlo e farlo scendere nel funnel allora in quel caso utilizziamo ClickFunnel che è una piattaforma fatta apposta dove ci sarà una parte di opt-in page una parte di landing page quindi la pagina di vendita e poi la pagina d'appisto con un semplice book da 20-30 euro dove siamo in grado assolutamente di andare a vendere anche a primo impatto servirà una landing page che puoi fare tranquillamente anche con Shopify ClickFunnel ragazzi è ottima per prodotti dei ticket possiamo utilizzarla anche per un ebook volendo non dico di no se colleghiamo Stripe e facciamo l'order form direttamente sulla sulla pagina di vendita il problema qual è? è che ClickFunnel ha dei costi molto elevati mi sembra siano tipo 100 euro al mese solo per solo per la piattaforma poi varie sempre tante cose insomma è un po' più lungo il discorso io consiglierei con un ebook va benissimo shop e fai quelle cose là non andrei su ClickFunnel a meno che non fate high ticket digitale e a tal proposito vi dico che uscirà una cosa incredibile a breve e in quel caso ClickFunnel è una piattaforma assolutamente da prendere in considerazione che come dicevo prima bisogna scaldare quello che è il cliente riferito alla creazione alla landing page quali app? dipende ce ne sono diverse cioè io personalmente utilizzo Jam Pages perché mi trovo benissimo con quella ma non è la unica cioè Ernesto che ridi non è l'unica abbiamo anche PageFly ce ne sono diverse ragazzi ce ne sono tante comunque se cerchi sul Shopify App Store l'ending page già te ne appaiono diverse migliori libri sul copywriting magari prendi quello di Luzio molto molto bello mi piace come si fa ad ottenere la licenza di un PLR altre persone possono prendere lo stesso prodotto sul sito la licenza te la devi far dare dalla piattaforma o dalla persona a cui acquisti quel PLR insieme al prodotto devi darti la licenza e te con quella sei tranquillo e lì ci deve essere scritto cosa puoi fare e cosa non puoi fare con quel prodotto PLR che prodotto stai vendendo con questi numeri? si dice il peccato ma non il peccatore qual'è il prodotto digitale con cui ho fatturato di più? penso un social media un social media calendar però specifico per una determinata nicchia in America lì ho fatturato veramente tantissimo però non c'è solo non solo ho fatturato tantissimo con anche i classici presets ragazzi però adesso non li consiglierei più ok mentre il social media template il social media calendar secondo me c'è ancora tanto mercato per i preset io l'ho venduto il mio store però ci ho fatto veramente tanti tanti soldi ma l'ho venduto perché mi sono accorto veramente che comincia a essere difficoltoso vendere il preset veramente almeno che non lo so non me lo continui io non partirei adesso con il preset ciao raga da sito tutti possono comprare lo stesso ebook ognuno con la propria licenza una volta venduto no da sito tutti possono comprare lo stesso ebook ecco perché come spiego all'interno del corso è veramente molto molto importante cercare di differenziarsi di ovviare a questa cosa ok quindi se puntate a un ebook PLR cercate di prenderne più PLR magari 3, 4, 5 PLR sulla stessa nicchia e di quelli ne create uno solo in modo tale che sia unico ok poi ovviamente fate tutte le modifiche del caso cambiate la copertina cambiate proprio il contenuto dell'ebook cercate di renderlo quanto più vostro possibile il PLR non prendetelo mai per rivenderlo così come perché non andate da nessuna parte va un attimo incorporato vendo un prodotto da 20 euro come posso far spendere di più per migliorare il mio ROAS o aumenti il valore percepito o aggiungi qualcosa al tuo prodotto dimostrai da io non so che prodotto stai vendendo Filippo non so difficile risponderti così difficile dovrei valutare la situazione ok cosa faresti se partissi con 200 euro studierei tanto mi formerei sicuramente ragazzi quella alla fine è la cosa più importante quando si va alla trattoria come fai la ricerca di mercato entra nel corso se non ci sei perché la pubblicità dice che dropshipping non è più sostenibile perché non è più sostenibile sono contento che tu abbia guardato la mia pubblicità in ogni caso a mio parere dropshipping non è più sostenibile soprattutto nel momento in cui siamo adesso ok ragazzi cazzo fate questo ragionamento con me un attimo allora non pensate minimamente assolutamente di affidarvi a Aliexpress perché lì già partite che siete non con piede nella fossa ma proprio vi ci buttate di testa nella fossa ok quindi Aliexpress dimittichiamoci mettiamo caso trovate un buon agente ok è la cosa che bisogna fare quando partiamo con dropshipping di Prodentitici trovi un buon agente ma cosa succede magari metti Paypal ogni qual i CPM adesso sono alle stelle nel Q4 ma soprattutto la spedizione adesso non esiste spedizione inferiore ai 25 giorni sempre per via del covid e tutte queste cose qua come pensate voi di creare un business dove acquistate un prodotto a 10 euro lo rivendete a 40 e al cliente finale vi arriva dopo un mese ok sotto forma di scatola cinese dove avrai problemi di resi di rimborsi dove tutta una serie di cose allucinare non è non esiste le lausali prima il dropshipping era diverso adesso siamo arrivati a un punto tale che troppe persone ci sono buttate al capofitto la pandemia ci ha messo del suo non è più una cosa sostenibile a mio parere quindi o facciamo private label allora in quel caso sicuramente è diverso oppure devi andare a venderti prodotti digitali perché vai a ovviare a distruggere tutte le problematiche le criticità che troviamo nel dropshipping di prodotti fisici quindi non ti fai un brand vero e proprio acquisti mille duemila tremila pezzi te li porti a casa o in una logistica in Italia in America dove vuoi vendere e vendi il prodotto allora va benissimo però dropshipping come una volta no fidatevi ragazzi non si può più fare anche qui modesto parere ciao Marco secondo te vanno ancora sempre hate per i social video oppure è finito il periodo di blue no secondo me vanno vanno forti tra me se quale piattaforma hai venduto il sito io ho nessuna piattaforma in cui vendo il sito ho delle persone che mi chiedono sempre se ho store da rivendere gente che ha il cash e niente vende a loro essenzialmente ma scusa tu non vendi nemmeno un prodotto fisico in drop quindi no ho smesso li vendevo ma ho smesso già a diverso tempo solo digitale al momento e facevo Amazon FBA ma se mi seguite sapete che voglio smettere anche quello sto aspettando che finisca tutto l'inventario e non lo farò mai più devono morire e male anche ma dire il vero io in 7 12 giorni da spedizione più 1-2 giorni di processo dell'ordine bravo complimenti a loro hai trovato un ottimo gente sicuramente questa cosa mi immagino che la fai se trovi un prodotto in una logistica europea ok perché dalla Cina è quasi impossibile però in quel caso mi piacerebbe sapere quant'è il tuo margine ok perché io per esempio andavo direttamente dai produttori su Alibaba perché perché se te ti affidi a una persona che ha una logistica in Europa per esempio per avere tempi di spedizioni dalla Cina 7-12 giorni non mi sembra ci sta non lo so mi sembra strano veramente molto strano ti ringrazio Marco è sempre il migliore grande lo store delle icone come è andato male ragazzi male lo store delle icone l'ho già chiuso ho provato a lanciarlo vedete come vi dico sempre non c'è la formula magica ok uno prova ma non sempre va infatti lo store delle icone l'avevo rifatto tutto da capo avevo fatto vedere anche su YouTube come però l'ho già chiuso perché io non ho pazienza l'ho lanciato ci ho speso anche diversi soldi ho lanciato le campagne 72 ore ho visto che comunque non performava non ho guadagnato ok sono andato non sono neanche andato a break even ci ho perso qualcosa come 50-60 euro su 600 euro spesi ma comunque avevo già visto che non era un prodotto e uno store scalabile e quindi l'ho chiuso totalmente ok pace ho perso 60 euro non me ne frega niente ne ho avviato un altro e già sta andando molto 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 meglio quindi assolutamente nessun problema è normale ragazzi e così nessuno lancia 10 store vincente su 10 è la dura legge del drop che vi piaccia o no aspetta che mi sono perso un po' di messaggi come sa avete scritto eh raga sono d'accordo sul discorso di Express grazie per le risposte voglio chiederti che sito la voti migliore per la vendita di un prodotto digitale ma in che senso Shopify cioè quale piattaforma utilizzare per vendere prodotti digitali va benissimo Shopify o forse ho capito male la domanda non lo so fammelo sapere quali sono prodotti digitali in 312 quanto vendi i preset Marco come hai sviluppato un tattico di genere ovvero che ti comprano un listore con ricorrenza eh maggiormente col canale YouTube mettendoci la faccia ed in nel quale c'è un rapporto eh quello perché meno male quando ci metti la faccia comincia a fare video di questo genere comincia a cercare di mostrare quello che è il tuo valore di farti vedere al mondo praticamente eh poi sarà la gente che ti contatta te capito quindi fondamentalmente questo è vorrei provare Dropship in digitale ma non so da cosa iniziare a fare allora intanto non provi Dropship in digitale ma la vendita dei prodotti digitali Dropship in digitale è solo il nome del mio corso del mio percorso formativo quindi ciao Sam quindi puoi entrare eh per qualsiasi cosa contattami anche su Instagram in privato e ti risponderei ragazzi basta scusatemi ma è 50 minuti che sono in live tantissime cose da fare tanti progetti grazie mille per essere stati con me noi ci vediamo alla prossima live mi raccomando prossimo video YouTube uscirà una cosa pazzesca strategia high budget Facebook ads da la fase di testing alla fase di scaling ok quindi mi raccomando non vi perdete il video perché sarà una bomba ci metterò tutto l'impegno possibile immaginario e cercherò di fare veramente un bel bel video spiegato bene quanto più possibile grazie a tutti raga ci vediamo ciao ciao raga anche voi di YouTube ciao Edin ci vediamo domani grazie a tutti